Soprattutto questa pista qua mi piace molto, già l'anno scorso ero lì a grattare il podio purtroppo con il vento che c'era un po' l'anno scorso non sono riuscito per quello oggi mi sono detto che volevo dare tutto quello che avevo e sono riuscito a fare veramente una bella gara anche con qualche errore quando sei veloce fai errori, il buon segno è stato così è bello vincere, fare il terzo posto qua in casa e sono contento così c'è la scesa domani, già ieri in prova mi sono trovato veramente bene, la pista mi piace proprio un complimento agli organizzatori che quest'anno veramente hanno fatto una pista straordinaria molto molto bella, vediamo, domani però di nuovo tutto e poi vediamo dopo la cosa Ma perché sei migliorato molto? Sì, comunque le cose girano abbastanza bene, già Vigo Chiechi col sesto posto ho dato il primo segno diciamo adesso anche qua io ne muovo, ne muovo ottavo e comunque un obiettivo è fare il primi 10 in discesa, vediamo domani Grazie